Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Minecraft Legends E oggi continuiamo la nostra avventura Let's go, andiamo Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, abbiamo salvato i nostri amici scheletri zombie Ci manca da salvare la fattoria dei creeper e attaccare un'orda nel bastione Cioè questa cosa qui E quindi direi di muoversi Allora, mettiamo il puntatore lì e andiamo Abbiamo 300 prisma, buono, very good Allora, andiamo a salvare direttamente i creeper Oddio, che cos'è? Vediamo che cos'è Tocca Oh, no, che fanno No, pazzi, scappate finché potete Tutti concordano con te Ok, torre d'assordimento Aspetta, che significa smantellata da un alleato? Ah, cioè esiste proprio un potenziamento fatto apposso che ci fa raccogliere tutto Vai Molto interessante Andiamo Un villaggio Distruggete tutto, guys Scappate gagnolini Non cadete nella... Quelli che sono caduti nella lava, ma che problemi c'hanno Non, non capisco Vai, morite Pi, 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 pi Dai, let's go Aia Facate todos Vai, vai Ora è diventato su easy Guarda che vittoria Andate Però abbiamo troppi zombie, eh E' un piccolo... Odio i creeper, che carini Ciao creeper Quei maiali non apprezzano chi fa il bagno con loro Fagli visita e riceverai una sorpresa Quel villaggio dei creeper Eccoli Dobbiamo ad aiutarli No, no 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 Oh 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 Andiamo a salvare noi Andiamo No, no, no È un boss brutto Non rompete, non rompete Vai, vai, vai Saldiamo Ok Vai andate Ah Sono scappati da sotto Nel senso Ok L'ho salvati Sono facilissimo Grazie a te i creeper hanno ritrovato coraggio Ora distruggi quel portale e aiutagli a liberare la loro casa Non è il mio esercito Boh Ho perso l'esercito Vabbè C'è un po' di tutto Vai Ok Siamo al completo Dovremmo fare molti danni Andiamo Uh Che fortezza che c'hanno In realtà è bella grossa Sì Maledetti Ah Spaccatelo Morite Morite Malta roba Tutta qui Andiamo Mori Venite Venite Vabbè Questi qui da forzetta sono easy Alla fine Easy Aia Allora sono morto Ok Ci siamo Priviamo l'esercito Ma è spaccato un po' tutto Vai Vi libero Vi libero No 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 Fatevi Spaccare Che fate Ho detto di spaccare là Che fate Pazzi che non siete altro Cioè i creeper con due colpi hanno distrutto tutto Ero utilissimi secondo me Andiamo Mi copro io Distruggete tutto Uh uh Let's go Vai Vediamo Vai È diventato un bro dei creeper Che carino Perfetto È meglio Per saltare in aria un muro Che sbatterci contro la testa Grazie alla vostra vittoria Ora potete chiamare i creeper ovunque nel corso di questa battaglia Saranno molto ma molto molto utili Però tutto contro loro Quelli del bastione Perché ora li andiamo ad attaccare Voi che hanno attaccato i nostri amici Ci vendicheremo Let's go Ciao creeperini In realtà li dovrei mettere Qui Per ripararli Non distrugge quei maledetti Sono proprio di fronte a noi Che cosa Gigante di quercia Potente colme capace di colpire nemici da grande distanza Che chiede svegli giganti Più oro Più legno Cioè Oddio sono i golem giganti Bellissimo Cioè ci sono i golem giganti Madonna che fortezza Ho bisogno di un po' di creeper Allora Quindi è un me I maledetti Devono morire Difficoltà 2 Si potrebbe fare in realtà Che cavolo è? Che cavolo No Sono più potenti Ce la so Tenis Ah Prima devi distruggere quelle bobine di lava Ok Ok Mi duole ammetterlo Davvero ingegnose quelle spire di lava Il loro calore protegge il vicino portale Hai qualcosa di particolarmente utile per combattere contro questa base? Dai un'occhiata alla melodia per costruire il lanciatore di pietra rossa Lanciatore di pietra rossa? Ricorda Il tuo lanciatore di pietra rossa ti aiuterà nella lotta contro Quale il lanciatore di pietra? Non capisco Lanciatore di pietra Ah lo devo segnare quindi Ok 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 Lo mettiamo tipo qui Ma quanta roba il suo cannocchile di pietra Aumenta l'aggittura dei torri delle frecce Dispersione di pietra rossa di vicino Proprio aggiungo un contraccolpo Esplosione di proietti Disparazione di strutture Oddio ma Secondo me ho fatto aumentare la velocità di tiro delle frecce Tutte cose da mettere qui ora immediatamente Mi serve Un po' di pietra rossa Che sta lì Oh Eccola E' bello Spero che ci basti Aiaiai Aiaiai La pietra rossa anche perché quanto costa Cento Solo uno riuscirò a fare Ecco quei geni Venti qua Venite 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 di qua Ci siamo tutti? Si Aia Mangia un po' di rocce nel nether Voi Ma che stanno Quelli sono con me Venti qua Ok perfetto Mangia un po' di rocce nel nether Vai Spaccate Spaccate Spacca Spacca Andate Ma è fortissimo Che forte è sto coso È la cosa più potente che abbia mai visto One shot Ci impiega Ci impiega un po' Però è fortissimo Ok è carico Abbatto quello lì subito Madonna fin dove arriva Guardate Boom Oh no Oddio ma li stanno costruendo questi maledetti Dai dai spaccate Spaccate Dai guys Aia No È volato via No Allora mi sono i creeper Ma che ci penso Ok Oh che fai che fai Che fate via Andatemi Distruggiti Vai Distrutto Adesso vedremo Adesso vedremo Dai 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 Vai Easy Vai 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 Apri la cassa Uh vediamo Vediamo che vola Raccolto Prismarino Vai No è fortissimo Cioè i creeper top Vai spacchiamo tutto Distruggiamo No 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 Vai fatevi esplodere Boom boom Guarda guarda Fortissimi Boom Ho qui Andate Tanto che dovreste farcela Vai easy Guardate Già fatto Vai grandi Grandissimi Asi Io ho intenzione Fa una cosa Ora li bombardo Con il cannone Guardate Eh 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 Gli ha deve questo Um Vai Oh madonna Che danno Oh Tanti sono Vai spaccate tutto Li copro io Morite Sì L'abbiamo fatta Oh Poverini Poverini Oh Vediamo Oh oh È molto arrabbiato Sono stati più tosti Effettivamente Questi qui Ci abbiamo 400 Di prisma Oh no Sono attaccando I skeletri Arriviamo Andiamo a salvarli Allora io direi Di fortificare Tipo una Roba del genere Così Ma è tipo Così Devi metterlo qui Ok Ok fatto Vado Pesso il carpentiere Ok Ora mancano solo le torri Ci sarà più legna Oh Oh cavolo Ecco Arriviamo Arriviamo Ma che parte Non permettere Non permettere Che i piglin Rovinino La fiducia Che i tuoi amici Ripongono in te Aiutali Vabbè Dovremmo farcela Manco entrano Sono già morti Easy Orita Oh no Orita Easy Mento Easy Un po' di prisma No E niente È stato clean E niente ragazzi Penso che il video Si possa concludere qui Perché abbiamo salvato I nostri amici creeper E nulla Spero che vi sia piaciuto Commentate Iscrivete se non avete Abbiamo fatto Ne ci vediamo Un prossimo video Grazie